Un saluto da Alex Guarini di Trebimeteo.com Ci aspetto un inizio settimana con ancora un po' di nuvolosità a nord-est dove non mancheranno residui e precipitazioni il tempo tende invece a migliorare a nord-ovest e invece sarà ampiamente soleggiato al centro-sud grazie a un campo di alta pressione Entriamo intanto nel dettaglio termico partendo dai valori minimi che saranno in lieve caro a nord-ovest per via delle maggiori schiarite non subiranno particolari variazioni invece altrove Per quanto riguarda le massime queste saranno in ulteriore aumento al centro-sud soprattutto lungo il versante tirrenico e sulle estreme regioni meridionali dove vedete raggiungeremo appunto addirittura fino a 23-24 gradi nel primo pomeriggio Ma entriamo quindi nel dettaglio previsionale per il nord che vedrà appunto una graduale attenuazione dei fenomeni a iniziare dai settori di Ponente con ultime piogge al mattino tra Levante Ligure, Emilia e Lombardia e residui fenomeni che al pomeriggio persistono sui settori orientali ma anche qui in graduale attenuazione Al centro residui a nuvolosità sull'Alta Toscana ma senza fenomeni degni di nota salvo residui pioviggini al mattino mentre al pomeriggio prevale il sole un po' su tutti i settori soprattutto adriatici E infine al sud splendida giornata di sole un po' su tutte le regioni salvo una residua nuvolosità di evoluzione diurna in prossimità dei rilevi ma di poco conto mentre prevale il bel tempo sulla Sardegna per tutto il corso della giornata Vi aspetto per aggiornamenti in tempo reale su trebimeteo.com Grazie a tutti